Giornate che ci permettono di testimoniare e di raccontare quello che diciamo quotidianamente. Questa generazione, come lei ben diceva, ha il coraggio di cambiare non soltanto le proprie comunità, non soltanto se stessa, ma anche l'intero paese. E ha anche gli strumenti, ed esistono gli strumenti, e queste giornate ci hanno permesso di raccontarlo per poter generare questo cambiamento. Strumenti che le organizzazioni territoriali creano, strumenti che anche le istituzioni affiancano ad un percorso di cambiamento che insieme dobbiamo generare. Ed è quello che insieme anche all'Agenzia Italiana per la Gioventù proviamo a fare da prospettive e da visuali anche molto diverse, con l'obiettivo però comune di dare centralità ai giovani che, come hanno testimoniato in queste ore, sono in grado davvero di poter essere un motore di cambiamento per l'intero paese.